Io sono Donativana, Presidente dell'Associazione Fulginamente. Ogni anno presento molti scrittori che vengono per incontrare gli studenti delle scuole di Foligno di ogni ordine grado. Non dico mai, anche se è la verità, che l'autore è così conosciuto che non ha bisogno di presentazioni, anche se è famosissimo, perché non mi piace. Ma in questo caso potrei dirlo, perché credo che Giulio Giorello sia stato sempre presente alla Festa di Filosofia tutti gli otto gli anni, o quasi? Ecco, come mi sembrava di... Ero quasi defunto. Quasi, quasi. Quindi ecco, è così presente a Foligno che veramente tutti lo conoscono. Però, diciamo comunque qualche cosa, Giulio Giorello è filosofo, matematico, epistemologo, professore di filosofia della scienza all'Università di Milano. Giulio Giorello ha conseguito due lauree presso l'Università degli Studi di Milano, una in filosofia e una in matematica. Dirige, presso l'editore Raffaello Cortina di Milano, la collana Scienze e idee. Non ci vedo molto bene, c'è poca luce. E collabora alle pagine culturali del quotidiano di milanese Corriere della Sera. Ha vinto la quarta edizione del Premio Nazionale Frascati Filosofia nel 2012. Quindi una grande persona di scienza e di cultura a tutto tondo, la matematica, la filosofia, è una persona dunque molto eclettica. Si è occupato anche di storia della scienza e storia delle matematiche. Lo spettro e il libertino nel 1981 ha curato con Marco Mondadori l'edizione italiana di Sulla Libertà di John Stuart Mill. Giulio Giorello è ateo, si definisce così, e ha scritto il libro Senza Dio del buon uso dell'ateismo. Vi parlo di questo evento, la pubblicazione di questo libro con Marco Mondadori, perché Marco Mondadori è stato un grande amico, un grande fraterno amico di Giulio Giorello, che è disceduto nel 1999. E' stato per lui un fatto molto grave, che ha segnato un po' la sua vita. Giorello è ateo, ma comunque tutti noi, come diceva anche ieri sera Vito Mancuso, ognuno di noi ha la propria anima, spiritualità, ego, io, il sé, ognuno di noi dunque coltiva questa parte misteriosa che è nostra e che ci rende diversi dagli animali. E in questa cura della nostra spiritualità, della nostra anima, c'è anche la paura della morte. Anche questo caratterizza forse solo gli esseri umani. Però, ecco, Giulio Giorello dice che spesso la morte ci coinvolge, soprattutto quando colpisce chi ci sta vicino. Per cui, ecco, questo fatto è stato molto importante, molto penoso nella vita di Giorello. Per esorcizzare la morte, Giorello dice una cosa che a me piace molto. Per esorcizzare la morte, cerca il piacere della vita, cerca di coltivare il piacere della vita. Giorello è anche famoso appunto per la sua versatilità e un suo amico glielo fa rilevare in un'intervista a cui è stato sottoposto qualche tempo fa. E questo suo amico dice che lui ama di Giorello questa versatilità, questa sua capacità di ragazzo della Via Pall che aveva nella sua infanzia e che poi nel seguito si è trasfermato in un professore serio, un professore di filosofia che si occupa di matematica. Cos'è questa versatilità? È dovuta soltanto alla sua intelligenza? Lui dice di no, perché spesso sono importanti i buoni maestri, gli insegnanti che incontriamo nel percorso della nostra vita e anche saper cogliere delle opportunità che la nostra vita ci presenta. Si può pensare anche, sempre una domanda del suo amico, una certa tendenza alla dispersione, quando uno si occupa un po' di tutto, forse è un po' una dispersione, e invece lui dice di no e anche io a me piace molto questa sua risposta che dice no, è la curiosità che mi porta un po' a occuparmi di tutto. E a me piace molto questa cosa, questa idea della curiosità, lo dicevo sempre ai miei alunni, io insegnavo francese e dicevo sempre siate curiosi, perché siete curiosi, imparate, avete voglia di studiare, avete voglia di viaggiare, avete voglia di conoscere le persone, quindi è molto, molto importante. E poi, per un'ultima domanda, come definiresti la tua vita? Gli è stato chiesto. Io non sono un'isola, sono un arcipelago, non mi sento mai solo, né autonomo. Vivo accanto a filosofia e matematica e non mi sento mai solo. Quindi, questa grande versatilità, questa grande curiosità, ci porta al titolo della conferenza di oggi, l'universo senza confini. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. Spero che si senta bene, anche in fondo, naturalmente. Se va bene, procedo. Intanto, grazie, come si dice, Presidentessa, Presidente... Ivana, grazie Ivana, per questa presentazione anche troppo calorosa nei miei confronti, perché forse alcune battute non erano il caso di dirle. Io, in realtà, non è che mi occupi di tutto, me ne guardo bene e di molte cose non so proprio... non saprei proprio da che parte cominciare. Da qualcuna, sì. E quella da cui parto oggi è la concezione dell'universo senza confini che fu formulata nella seconda metà del Cinquecento da un, secondo me, grandissimo filosofo italiano che si chiamava Giordano Bruno. Fu formulata in lingua italiana in alcuni bellissimi dialoghi come La cena delle ceneri e dell'infinito universo et mondi. Siamo verso il 1584 e poi questa concezione dell'universo senza confini fu poi ripresa raccontata in versi commentata in prosa in un grande lavoro di Bruno scritto in lingua latina che si intitola De Immenso. Testo molto importante che venne letto e commentato da molti lettori specialmente diciamo così in paesi un po' più a nord dell'Italia poi si capiranno le ragioni di questa precisazione che non è soltanto banalmente geografica un po' più a nord dell'Italia persino in Inghilterra dico persino in Inghilterra perché queste idee di Bruno erano idee che fortemente rompevano con la tradizione aristotelica e tolemaica che era ancora imperante in non poche che grandi capitali della cultura dell'Europa del tardo cinquecento e dell'inizio del seicento l'inizio del seicento Giordano Bruno non l'ha visto perché è morto in un incendio come disse una volta un pudibondo manuale cattolico morì in un incendio e vabbè capita ma io non vorrei parlare di questo io vorrei arrivare a Giordano Bruno muovendo da un suo lettore molto particolare che non era né uno storico dell'idee né un filosofo di professione e lo è diventato poi ma era sostanzialmente un fisico e qui devo spostarmi più vicino a noi e più precisamente ai primi del novembre del 1919 nei primi di novembre del 1919 il Times di Londra a titoloni pubblicava Revolution in Science rivoluzione della scienza Newton's ideas overthrow che vorrebbe dire buttate giù e a cosa alludeva alludeva ai risultati delle spedizioni delle eclissi progettate da tempo ma realizzate soltanto verso il termine della seconda scusate della stanchezza della prima guerra mondiale e queste espedizioni in tempo di eclisse permettevano di osservare le traiettorie dei raggi delle stelle in vicinanza di una grande massa nella fattispecie la massa del sole che appunto essendo eclissato non creava un evidente disturbo a questo tipo di osservazione bene i risultati numerici che vennero trovati dalle osservazioni dell'eclisse furono risultati in disaccordo con la teoria di Newton ma in accordo con una nuova teoria che veniva allora alquanto discussa negli ambienti scientifici e talvolta vista con un certo sospetto la relatività generale di Albert Einstein Einstein aveva concluso sostanzialmente nel 1916 la sua teoria generale della relatività e si era dedicato l'anno successivo 1917 attenzione bene alle date 1917 alla creazione con le equazioni che derivavano dalla sua teoria della struttura dell'universo questo modello einsteiniano venne studiato con grande interesse con grande passione da un brillante giovane fisico che era stato allievo di Max Planck Planck era tra l'altro uno dei grandi ammiratori di Einstein e ha stato Planck indirizzare questo giovane fisico a lavorare con Einstein stesso il nome di questo giovane fisico è Moritz Schlick poi diventato noto nel mondo filosofico per aver dato vita nei primi anni 20 del novecento a quel circolo S-Mach dell'università di Vienna che fu uno dei grandi nuclei della diffusione dell'atteggiamento che si chiama tecnicamente neopositivista o del positivismo logico o dell'empirismo logico ma Schlick esordisce come fisico e sviluppa una interessante versione dell'universo einsteiniano questo testo di Schlick è stato grazie devo dire all'instancabile lavoro di quello che per me è stato un grande maestro oltre che un grande amico Ludovico Gemonà è stato un libro che è stato tradotto anche in italiano messo a disposizione degli studiosi e che è ricchissimo di sorprese vi dico la sorpresa che ci ho trovato io a parte che l'esposizione di Schlick è di una chiarezza mirabile ma ad un certo punto una persona che si suppone essere un fisico rigoroso attento alle formulazioni linguistiche viene quasi colto dall'entusiasmo quando parla di uno strano personaggio che avrebbe aperto la strada a questo universo di cui la relatività generale ci ha fatto dono la persona a cui fa riferimento Maurice Schlick è Giordano Bruno Giordano Bruno Danola che da alcuni è stato considerato secondo me a torto un filosofo debitore della tradizione dell'ermetismo da alcuni altri un mago da altri un semplice visionario e via discorrendo si potrebbero aggiungere qualificazioni ancora peggiori viene salutato da Maurice Schlick come colui che è stato non è così rozzo da usare il termine precursore ma come colui che ha aperto la strada alla concezione e qui viene l'espressione di questa nostra chiacchierata di un universo senza confini l'idea è una che Bruno espone nei suoi dialoghi italiani in particolare in la cena delle ceneri e dell'infinito universo e mondi ma che forse nella forma più elegante è presentato in alcune pagine nel suo poema latino de'immenso Bruno prende come riferimento analogico la nostra terra pensa magari a una terra che sia tutta ricoperta di acqua dove delle navi possono tranquillamente navigare senza incontrare ostacolo alcuno questo è un esempio nel caso bidimensionale di un universo senza margini un universo senza confini che siano invalicabili anche l'universo in cui noi viviamo il nostro universo l'universo in cui la terra orbita intorno al sole e ruota anche su se stessa l'astronomia di Bruno è copernicana ecco questo tipo di universo nostro è una struttura di questo tipo non conosci confini attenzione qualcuno ha detto subito ecco che allora Bruno ha introdotto l'idea di universo infinito ma Glick stava molto attento alle parole preferiva senza confini invece che infinito perché lui aveva in mente 1917 un universo austeniano finito ma che non aveva alcun confine proprio come Bruno aveva voluto e in questo senso Glick salutava Bruno come uno dei più grandi pensatori del rinascimento del nostro paese ora la storia è piena di vicende estremamente curiose ed estremamente intriganti talvolta sono vicende anche dolorose noi sappiamo come finì Giordano Bruno autore della cena delle ceneri che vuol dire semplicemente una cena fatta alla quaresima che è però finito in cenere non tanto come fu scritto in un manuale cattolico della fine dell'ottocento in un incendio ma più visivamente su un rogo per imposizione della inquisizione romana quindi questa fu la fine di Giordano Bruno c'è uno strano parallelismo tra la vicenda umana di Giordano Bruno e la vicenda umana di Maurice Lick e cercherò adesso di spiegarlo rapidamente Maurice Lick quando si trasferì a Vienna si mise a creare un centro che era una parte stimolato dalla critica alla metodologia scientifica operata da una grande figura che è Ersmach di Vienna ma che guardava anche e soprattutto all'analisi dei linguaggi adoperati dagli stessi operatori scientifici e su questo riprendeva in modo molto originale alcune delle tesi di fondo di Wittgenstein presentate nel suo trattato logico filosofico siamo all'inizio degli anni venti Lick si darà da fare perché si crei un tipo di nuova filosofia in cui convergano competenze diverse di persone che hanno un'educazione scientifica tant'è vero che quando si delineerà un manifesto del circolo di Vienna questo sarà presentato da un matematico Hansen da un filosofo potremmo dire della fisica ma anche che logico estremamente attento Rudolf Carnap e da un battagliero filosofo materialista lui così si definiva che era particolarmente attivo nelle scienze sociali e che rispondeva al nome di Otto Neuerath la concezione della nuova filosofia è stata anche tradotta in italiano circola nelle edizioni la terza ed è veramente interessante per capire lo spirito del positivismo logico o neoimpirismo o empirismo logico questi termini non sono esattamente sinonimi ma noi per semplicità possiamo usarli come tali fatto sta che la parabola di Schlich si avvicinava alla sua fine nel 1936 Boris Schlich fu assassinato mentre usciva dalle scendeva le scale dell'università di Vienna da un fanatico nazionalista austriaco nazistoide il quale poi con l'anschluss cioè con l'annessione dell'Austria alla Germania di Hitler fu messo tranquillamente a svolgere un lavoro burocratico e potrebbe finire tranquillamente i propri giorni senza finire dove in un paese serio sarebbe finito cioè di fronte a un tribunale per l'accusa di un brutale e stupido e stupido omicidio Schlich era stato accusato da questo deficiente nazista di essere uno che diffondeva il veleno ebraico nella gioventù austriaca attenzione Schlich faceva parte di una alta borghesia prussiana tra l'altro ecco la cosa più tragica della morte di Schlich è che suonò come un campanello d'allarme e fece sì che non pochi intellettuali della Mitte Europa cominciassero a pensare che era meglio recarsi in altri paesi diciamo non così sotto il tallone di Hitler o sotto la minaccia di una annessione da questo dittatore sanguinario troviamo quindi la grande migrazione dei persone come Neurath di persone come Carnap che magari si ritroveranno negli Stati Uniti o di un critico del circolo di Vienna ma particolarmente visto con interesse da Schlich che andò a finire niente di meno per porre le distanze che in Nuova Zelanda alludo a Carpopper Popper aveva pubblicato su indicazione dello stesso Schlich la sua Logik der Forschung già nel 1934 la data di pubblicazione nell'edizione 35 ma un errore e tuttavia quello che è stato uno dei grandi capolavori di Popper nella riflessione di filosofia della scienza e di filosofia politica affiancata insieme che si intitola La società aperta e i suoi nemici fu concepito durante la permanenza di Popper in Nuova Zelanda poi fu rimesso a punto durante il trasferimento di Popper in Europa in particolare quando a guerra finita 1945 Popper approdò a Londra alla cattedra di filosofia della scienza della London School of Economics a se non sbaglio Portugal Street of Olwy c'è la zona dove stava Popper con i suoi allievi o meglio i suoi allievi con quelli che venivano a sentirlo talvolta come una libera scelta alcuni di questi allievi sono diventati dei filosofi della scienza non meno famosi di Popper uno è l'ebreo ungherese Imre Lipschitz più noto come Imre Lakatos e un altro chiamarlo filosofo della scienza l'avrebbe innervosito negli ultimi anni della sua vita era un altro viennese che si chiama Paul Feyerabend questo questa grande vivacità culturale è mossa proprio da alcuni dei temi che ho qui indicato Popper quando gli chiedono che cos'è per te la filosofia e lo dice molto bene in alcuni articoli del suo Conjecture and Refutation Congetture e Confutazioni prima edizione 1963 risponde che per lui la la filosofia non è come pensano troppi i suoi colleghi tra Oxford e Cambridge analisi del linguaggio qui c'è anche una puntata contro Schlich e ovviamente ma è soprattutto in primo luogo cosmologia cioè è soprattutto il modo con cui noi cerchiamo di dare una valutazione del grande universo in cui ci troviamo a vivere ecco perché mi sembrava giusto fare questo riferimento muovendo proprio dalle considerazioni di Giordano Bruno Giordano Bruno non è un matematico su alcune sue correzioni la matematica del tempo è bene soprassedere ma è una persona profondamente coinvolto nell'esplorazione dell'universo in cui noi viviamo certo l'universo di Bruno è un universo in cui le masse si distribuiscono in uno spazio che è uno spazio tipicamente euclideo e quindi è inutile fare come qualche entusiasta ha voluto fare di Bruno un precursore della relatività generale in questa categoria il precursore non funziona quello che funziona nel caso di Giordano Bruno è questa enorme grande capacità di intuire come la svolta copernicana abbia aperto una svolta più ampia che era quello dell'universo senza confini qui bisogna stare molto attenti perché questa concezione dell'universo Bruno tante volte dice anche infinito pensava evidentemente a uno spazio che si estendesse in ogni direzione e a un tempo che scolresse perpetuamente questa concezione Bruno la esprime in particolare nel dialogo dell'universo infinito dell'infinito scusate la stanchezza dell'infinito universo e mondi come mai possibile dice un personaggio che voi possiate pensare l'universo infinito e la risposta è come è possibile che tu invece lo pensi finito quindi rovescia totalmente il punto di vista ereditato perché sottolinea Bruno che alla infinita potenza creatrice di Dio causa prima dell'universo non c'è ragione che in modo arbitrario qualcuno metta un limite metta un confine e dica la potenza creativa di Dio è andata fin qui poi niente poi non c'è più niente no non si fa e allora è su questa base che Bruno in un dialogo che si chiama della causa principio e Tuno attacca questa concezione e sviluppa appunto la sua idea di un cosmo senza confini questo è un punto molto importante naturalmente naturalmente è ingenuo dare a Bruno la patente di scienziato Bruno non è uno scienziato nel senso a cui noi siamo abituati a considerare lo scienziato professionista del settecento o dell'ottocento né tampocco del novecento ma non è nemmeno uno scienziato come era Galileo Galilei il confronto con Galileo è abbastanza interessante perché la dice lunga sul carattere dell'uno Bruno e dell'altro prima ho avuto occasione di ricordare quanto sia un secolo complicato e pieno di crisi il cinquecento quale secolo non lo è uno potrebbe dire ma il cinquecento è il secolo che vede la rottura della cristianità grazie a quelle famose tesi attaccate su una porta a Wittenberg da un monaco agostiniano che si chiamava Martin Lutero pochi anni dopo siamo verso il 1521 Martin Lutero prende la bolla di scomunica e alcuni libri di diritto canonico fa un bel falò e li brucia e poi aggiunge attenzione i libri non si devono bruciare il che è un po' curioso detto a prima vista ma cosa voleva dire con questo Martino voleva dire io qui non sto bruciando dei libri perché sono libri sto bruciando degli strumenti che vengono usati dalla chiesa di Roma per violentare la libertà dei cristiani e per impedire che si sviluppi un libero dibattito nel mondo di coloro che si riconoscono per prima cosa in Gesù Cristo questo è il punto di fondo della asserzione luterana e qui c'è una strana coincidenza tra Lutero e Bruno Lutero era convinto che Dio fosse dentro di noi più dentro di quanto noi siamo noi stessi la stessa frase si ritrova all'inizio del dialogo la cena delle ceneri di Giordano Bruno come mai la ragione è molto semplice usano la stessa fonte questa fonte sono le confessioni di Agostino di Ippona Agostiniano Lutero Agostiniano in questo senso Bruno ma è interessante il modo con cui Bruno arriva a questo recupero di Agostino perché noi possiamo tornare a questa idea che Dio sia dentro di noi più dentro di quanto noi siamo a noi stessi perché guardando i cieli ci siamo accorti che la luna non è che un'altra terra e che la fisica dei cieli e la fisica di questa terra non sono due fisiche radicalmente differenti ma sono lo stesso tipo di leggi naturali allora è dalle conquiste dell'astronomia che si recupera per Bruno questa dimensione profonda della nostra interiorità ma Bruno non fa solo questo Bruno è uno pensatore che in molti versi è sconcertante basta spostarsi dal dialogo della cena delle cene a un altro dialogo che si chiama degli eroici furori dove il furore è nello stesso tempo eroico ed erotico vi ricordate di talo Orlando dell'Ariosto tanto poema adorato da Bruno e anche ampiamente citato nei propri dialoghi ebbene ad un certo punto Bruno dice sì c'è un Dio dentro di noi proprio come nella fucina di Vulcano il mito ci racconta che ci sono coloro che lavorano al servizio di questo grande Dio Vulcano ma Bruno aggiunge ma quale questo Dio sia non è così facile determinarlo e qui comincia a essere un problema quale Dio è quello che ispira il furente e il furioso e che porta a concepire quei furori eroici che possono terminare nella distruzione fisica dell'eroe Bruno stava molto attento al mito e sapeva giocare in modo magistrale con il mito voi tutti sapete che negli eroici furori Bruno rivisita a suo modo la storia di Atteone Atteone non per colpa sua ci capita per caso vede la Dea Diana nelle acque sta facendo un bagno ma l'eroe Bruniano non sta bello in disparte a contemplare la amata che si puccia in chiare fresche dolci acque come faceva Petrarca autore che Bruno non ama ma invece diciamo così passa l'azione punizione dell'empio prima ancora che riesca ad accorgersene della metamorfosi Atteone diventa una belva diciamo un cervo che verrà dilaniato dai cani i veltri che sono al suo servizio e così viene distrutto va incontro all'annichilazione fisica ebbene non aspettatevi che Bruno critiche Atteone Atteone comunque è riuscito a vedere la Diana nuda cioè ad avere una visione non del sole che per carità l'avrebbe accecato ma della luna Diana e la luna la quale rappresenta la potenza creativa della natura e quindi la visione di Atteone diventa una delle tante immagini con le quali noi possiamo descrivere la nostra avventura di coloro l'avventura nostra e di quelli che ci seguono nel piacere di scoprire i segreti del mondo in cui viviamo quest'opera Bruno ce lo dice non terminerà mai cioè troveremo sempre nuovi problemi ci romperemo sempre la testa nel tentativo di risolvere i più difficili rompicapo ma non esauriremo mai il compito della conoscenza ma perché il compito della conoscenza dovrebbe esaurirsi perché non potrebbe essere un compito anche questo senza fine perché le generazioni che verranno dopo la nostra non dovrebbero provare anche loro il tormento ma anche il piacere della scoperta in questo senso Bruno coglie molto bene lo spirito della rivoluzione copernicana spirito che Bruno celebra onorando Copernico che celebra onorando se stesso che va un po' più oltre Copernico e dove è andato oltre? è andato oltre proprio nel non accontentarsi di un universo confinato chiuso per esempio dalla sfera delle stelle fisse ma invece un universo in questo senso senza alcun confine ebbene è una bella sfida quella che Bruno si propone una sfida che quelli che sono venuti dopo Bruno non sono stati così decisi nel seguirlo Galileo Galilei quando gli chiedono secondo te l'universo è finito o infinito la risposta di Galileo esemplare dice molto grande più grande l'universo secondo Copernico di quanto non fosse secondo Aristotele e Tolomeo e fin qui va bene grazie Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.